Ora ci interesseremo un po' di come muta la raffigurazione artistica nel Tardo Impero Romano, in particolar modo vedremo alcune opere di scultura innanzitutto, è proprio nella scultura che probabilmente si nota di più questo senso del mutare del tempo, i nuovi concetti che si fanno avanti, per esempio c'è la ritrattistica ufficiale, sarebbe a dire i ritratti degli uomini notevoli dagli imperatori addignitari, praticamente si passa dalla rappresentazione del ritratto ufficiale di stampo ellenistico che siamo stati abituati a vedere precedentemente, a nuovi valori che invece prediligono di più il simbolismo e una espressività, quindi gradualmente si passa ad esempio dal tipo del filosofo, il personaggio viene rappresentato come si rappresentavano nella Grecia ellenistica e anche classica, ad esempio il filosofo con la barba, i capelli, barba molto folta, capelli abbondanti, gli occhi pensosi, malinconico, quasi affranto, come possiamo vedere ad esempio in questa immagine o in quest'altro ritratto, stesso criterio di cui abbiamo parlato prima, gradualmente si passa da questi a un altro tipo di rappresentazione dove si cerca un altro tipo di simbolismo, il personaggio sembra quasi in estasi, ispirato, ha gli occhi in alto rivolti al cielo, quasi a sottolineare il carattere divino del personaggio stesso, l'imperatore divinizzato. Si giunge insomma a un modello praticamente dove non c'è più neanche la ricerca ritrattistica che cercava in qualche modo non solo di raffigurare e rappresentare gli esatti lineamenti del volto, ma anche il carattere del personaggio, atteggiando ad esempio la bocca, gli occhi e così via all'indole del personaggio che veniva raffigurato. Mano a mano, come vediamo in un'opera come questa, si passa ad un modello che si dice stereotipato, cioè che cosa significa stereotipato? Inespressivo, senza espressione, senza partecipazione, seguendo dei modelli fissi, un modello si fa in questo modo, si rappresenta l'imperatore perché lui è qualcosa, è praticamente il Dio in terra in qualche modo, con quegli attributi, quindi la corona piuttosto che i capelli etc., si passa quindi a un modello che ricorda più la Grecia arcaica che non la Grecia dell'Ellerismo. Per intenderci, ormai le varie parti del volto vengono praticamente indicati in maniera più o meno simbolica, se vediamo come sono trattati gli occhi piuttosto che i capelli, riusciamo a comprendere come sia tanto diversa dalle prime raffigurazioni che abbiamo imparato a vedere degli imperatori. Insomma, in definitiva, si passa dalla ritrattistica che voleva essere una copia al vero del personaggio e della persona, a qualcosa che viene idealizzato, cioè il viso non è più quello della persona vera e propria come ritratto, con tutti i suoi difetti anche magari, ma piuttosto è idealizzato. Anche nel rilievo onorario e nei rilievi storico-celebrativi ci sono delle trasformazioni molto importanti. Le novità importanti sono, la prima, che nella narrazione si introduce l'elemento irrazionale, cioè qualcosa di magico, un avvenimento magico che nelle prime raffigurazioni storico-celebrative invece non esisteva, perché quelle erano specificamente aderenti all'avvenimento, ai fatti che erano accaduti. Mentre qua adesso si parlerebbe, vedremo poi qualche dettaglio, anche di eventi immaginari in qualche modo. L'altro è che le stesse raffigurazioni fanno capire come siano mutati i valori e gli ideali della romanità. Infine vedremo come l'arte plebea con le sue caratteristiche, siamo stati abituati ad osservare nelle lezioni precedenti, si affermi come arte quasi praticamente ufficiale, quella che in realtà veniva offerta anche dalle rappresentazioni ufficiali. La rappresentazione ufficiale diventa non più rappresentazione aulica, ma aderente alla raffigurazione dell'arte plebea, che diventa il linguaggio ufficiale della romanità del Tardo Impero. Quella che stiamo osservando in questo momento è un'altra colonna coclidea, è la colonna di Marco Aurelio. La colonna di Marco Aurelio è stata in realtà fatta costruire dall'imperatore Commodo per onorare Marco Aurelio che era l'imperatore precedente e precisamente per raccontare le geste di Marco Aurelio quando ha conquistato le popolazioni germaniche dei marcomanni, dei sarmadi e dei quadi. Sono praticamente anche qui due campagne, due guerre che si sono succedute nel tempo, in circa 5 anni. Come vedete è molto simile alla colonna Traiana. Anche questa colonna è composta da 19, questa volta Rocchi, è alta 29 metri e 60, compreso il basamento arriviamo a oltre i 40 metri. Identicamente alla colonna Traiana si può accedere all'interno del basamento e da questo si può accedere ad una scala a chiocciola che attraversa l'intero fusto fino alla sommità. È molto simile in questo senso. Lo stesso toro che si trova alla base della colonna, l'imoscapo, come vedete è ornato con lo stesso tipo di lavorazione della colonna Traiana. Identicamente al sommoscapo troviamo gli stessi ovuli con i dardi e il grande dado sovrastante, il blocco di marmo parallelepipedo che sovrasta con poi l'appoggio per la statua sovrastante. In origine c'era la statua di Marco Aurelio che poi è andata distrutta nel Medioevo. Per quello che attiene il basamento, similiarmente al basamento della colonna Traiana, anche questa era decorata con dei bassorilievi. Attualmente vediamo che questi mancano perché durante il pontificato di Papa Sisto V furono rimossi e in qualche modo fu restaurato il basamento. Ci sono delle iscrizioni che poi fra l'altro riportano una indicazione sbagliata perché indicano che la colonna aureliana è stata fatta dall'imperatore Antonino Pio, mentre invece sappiamo che è di Marco Aurelio, rappresenta le imprese di Marco Aurelio. Però le differenze importanti sono alcune con la colonna traiana. Innanzitutto il numero di spire è minore, questo perché la fascia è stata realizzata con un'altezza maggiore, quindi avendo una fascia più alta il numero di spire che si producono fino alla fine sono di meno. Inoltre, lo vediamo anche qui chiaramente, c'è un effetto di chiaroscuro molto più accentuato e questo perché le figure sono molto più a rilievo rispetto a quelle della colonna traiana, creando appunto questo effetto di chiaroscuro forte, importante. Ovviamente essendoci meno spazio in altezza, cioè meno spire, anche gli episodi raffigurati sono in numero inferiore rispetto alla colonna traiana. Inoltre, le forti sporgenze, le grosse sporgenze dovute proprio perché hanno realizzato una sorta di quasi di alto rilievo, danno una sensazione di ondeggiamento della linea della colonna, cosa che invece nella colonna traiana era meno accentuata, cioè sembra un po' frastagliata il contorno della colonna. Inoltre, la colonna non ha l'entasi, cioè non ha quel classico rigonfiamento al centro, ma è perfettamente cilindrica. Ecco, in questa immagine, in questo dettaglio percepiamo ancora meglio come siano molto sporgenti tutte le figure e siano anche molto evidenti. Durante la narrazione, mentre nelle varie scene si vedono l'esercito, i soldati che si muovono, che si agitano, che combattono e così via, di tanto in tanto ci sono queste scene che danno come una sorta di sosta nella narrazione, dove c'è l'imperatore che parla alle truppe, l'imperatore è visto sempre frontalmente in posizione imperiosa, quasi come una sorta di divinità, mentre le truppe stanno lì in ascolto, chi di spalle e chi di profilo. Come possiamo vedere, l'aderenza all'arte plebea di cui parlavamo precedentemente, ad esempio, qui la possiamo vedere nel fatto che l'imperatore è posto su un livello superiore, mentre probabilmente era semplicemente posto frontalmente ai soldati. Mentre la stessa figura dell'imperatore, ad esempio, che arringa le truppe della colonna traiana, che vediamo in questo dettaglio, vediamo che l'imperatore è in posizione di profilo e in qualche modo questo induce l'osservatore quasi a continuare il percorso, a continuare a leggere in avanti, mentre nell'immagine che abbiamo visto prima con l'imperatore che è in figura stante, cioè praticamente in figura frontale, ecco qua lo vediamo nel dettaglio, rappresenta proprio una vera e propria sosta, un fermo immagine della narrazione. Altra particolarità e differenza con la colonna traiana. Le scene non sono descritte in maniera temporale, ovvero sono descritte in maniera a quadretti, un episodio viene prima anche se temporalmente è successo dopo e questo per dare maggiore importanza a quegli episodi che vengono considerati esemplari, i quali poi fra l'altro vengono posti nella parte bassa della colonna, quella che era più facilmente osservabile, quella che si riusciva a vedere meglio. Sicuramente qui manca una mente regista che abbia organizzato tutta la narrazione, si comprende molto facilmente che sono stati più artigiani ad operare, ognuno quindi con una sua particolarità e con le sue peculiarità artigianali e artistiche e che questi artigiani erano molto vicini alle raffigurazioni dell'arte plebea. Ma ciò che sicuramente è fondamentale e che cambia nelle raffigurazioni è la mancanza rispetto alla colonna traiana del rispetto per la dignità dei vinti come abbiamo osservato nella colonna traiana pure. Questo lo riusciamo ad osservare ad esempio in questo dettaglio dove c'è l'imperatore che arriva in un villaggio conquistato, evidentemente in un villaggio barbaro, mentre lui arriva si vedono scene di saccheggio, mentre uomini, donne e bambini vengono massacrati senza pietà. Certo in questo episodio così rappresentato si omaggia al soldato romano, alla sua forza, alla sua potenza, ma in realtà spesso succede che la narrazione è falsa, in quanto non sempre avveniva quello che stiamo osservando, non sempre i romani erano i più forti in assoluto. Infine arriviamo poi all'altro aspetto di cui abbiamo accennato prima, l'introduzione nelle narrazioni di fatti miracolosi o magici se vogliamo. In questo vediamo proprio Giove, Giove Pluvio, che interviene per cambiare il corso degli eventi. È raffigurato come un vecchio con le ali, dal quale praticamente stanno grondando gocce d'acqua. Queste gocce d'acqua ristorano le legioni romane, mentre uccidono o rendono inoffensivi i nemici che ne sono travolti e vengono rappresentati come corpi sovrapposti sulla destra. È un evento irrazionale ed è la prima volta che in una narrazione storica della scultura romana viene rappresentato qualcosa di irrazionale. Questo mostra che la mentalità romana evidentemente sta cambiando e sta assorbendo anche altre mentalità. Non è da escludere che proprio la diffusione del cristianesimo e quindi dell'irrazionale e l'accettazione che esista un irrazionale che possa intervenire nella vita di tutti i giorni, il miracolo fondamentalmente, sia cominciando a fare breccia nella pratica mentalità romana invece dei tempi della Repubblica. Passiamo ad analizzare un'ulteriore opera. Si tratta dell'arco di Costantino. Quest'arco fu costruito tra 315 e 316. C'è stata la vittoria su Massenzio in una battaglia su Ponte Milvio e già da dieci anni era stato eletto imperatore Costantino. Quindi il senato romano stabilisce la costruzione di questo arco trionfale che deve celebrare l'imperatore Costantino. Qui come vedremo poi nei successivi dettagli vedremo il definitivo affermarsi della raffigurazione di arte plebea nelle raffigurazioni ufficiali della Romanità. L'arco è parimenti ad altri archi trionfali, in questo caso ha tre fornici, ovvero le tre grandi aperture. Poi ha un attico, l'attico sarebbe la fascia al di sopra delle colonne e della trabeazione. colonne libere, colonne che sono appoggiate alla struttura muraria e che in realtà non sorreggono alcunché dal punto di vista statico, perciò vengono chiamate colonne libere che sono fra l'altro su degli altissimi piedistalli, poste su degli altissimi piedistalli e sono di ordine corinzio. Se guardiamo con più attenzione, dietro le colonne che sono staccate dalla parte muraria, sono rappresentate delle lesene. Queste lesene, fra l'altro, continuano anche nell'attico e davanti ad esse ci sono rappresentate delle statue di daci prigionieri. Quindi ricapitolando, l'intera struttura muraria è praticamente composta dai fornici, scandita da queste lesene, che sono anche esse di ordine corinzio, sono subito dentro le colonne. Le lesene sostengono una trabbeazione, la trabbeazione poi in corrispondenza delle colonne libere sporge in avanti. Si dice che il monumento probabilmente è uno dei primi o più antico esempi di edifici di spoglio. Che cosa significa questo? Significa che sono stati smontati e demoliti altri monumenti, presi le parti fondamentali, principali, quelle più interessanti, quelle che più potevano servire e riutilizzate per costruire poi questo nuovo arco trionfale. Quindi è un edificio di spoglio in questo senso. Anzi, probabilmente si è stabilito che forse la stessa struttura non è neanche originaria di Costantino, ma che sia stato riutilizzato a livello strutturale, addirittura delle parti che si possono riferire alla Domus Aurea di Nerone. Forse si ipotizza che la buona parte della struttura facesse parte di un altro arco trionfale dedicato forse ad Adriano, un arco di trionfo dedicato ad Adriano. Questo lo si è stabilito perché tutto l'attico sarebbe stato in quell'occasione, nel riadattamento per omaggiare Costantino, abbattuto l'intero attico, il quale infatti oggi attualmente risulta realizzato con una tecnica costruttiva differente, cioè con altro tipo di materiali. Quindi probabilmente fino all'attico si tratta di un altro arco di trionfo che doveva avere delle semicolomme addossate alla muratura, come era in uso in quel tempo, il tempo di Adriano. Anziché avere delle colonne libere, al posto delle lesene c'erano delle semicolonne. Queste semicolonne poi sono state scolpite fino a farle diventare delle lesene e poi sarebbero state aggiunte queste colonne libere, come un'aggiunta. a punto. Difatti tutta la parte inferiore, quella fino ai fornici, è realizzata con filari di blocco di calcare, isodoma, cioè grandi blocchi posti su linee orizzontali, su piani orizzontali. Mentre tutta la parte superiore, quella relativa all'attico, è realizzata con un paramento di mattoni all'interno, creando un vuoto praticamente in tutto il blocco della struttura, riempito con del conglomerato cementizio e poi rivestito con le lastre di marmo, mentre nella parte inferiore, come abbiamo detto, non è un rivestimento, sono proprio dei blocchi di marmo che compongono l'intero edificio. E' certo comunque, al di là della struttura statica, architettonica, che invece tutte le decorazioni scultore siano state realizzate proprio in età costantiniana. Qui vediamo tra le vari l'episodio cosiddetto della liberalitas, che significa generosità in latino. Qui è rappresentato la distribuzione dei sussidi dell'imperatore. E qua vediamo tutti i caratteri dell'arte plebea, così come siamo stati abituati a vederli in precedenza. Infatti l'imperatore è posto esattamente al centro e la composizione è simmetrica. A destra e a sinistra dell'imperatore ci sono praticamente le stesse figure rivolte specularmente rispetto all'imperatore. E' l'unico personaggio che è rappresentato in questo modo, cioè frontale seduto su di un trono. E questo lo rende più vicino a una divinità che ha un vero e proprio imperatore. Non c'è niente che possa rimandare alle reali proporzioni delle varie parti, cioè dei personaggi, degli oggetti e degli elementi che compongono la raffigurazione, che invece era proprio la proporzionalità, era proprio uno dei fondamenti dei canoni greci. Le figure sono trattate in maniera gerarchica, cioè le loro dimensioni diminuiscono un aumento a seconda del rango e della loro importanza. Infatti si possono riscontrare almeno 5 differenti dimensioni. Il popolo e le figure sono quelle più piccole, sarebbero quelle in basso a destra e a sinistra, il numero 5, con la D, rappresentato con la D. Poi abbiamo tre che rappresentano i dignitari, che sono collocati in alto B e anche ai piedi dell'imperatore con C e al suo fianco. E poi c'è la figura di Costantino, la E fondamentalmente. non c'è nessun riferimento prospettico. Tutti i personaggi sono rappresentati alla destra e alla sinistra dell'imperatore. Anche il popolo che invece probabilmente doveva essere posto frontalmente, quando viene raffigurato tutto su un unico piano, mentre invece sarebbero su piani differenti i vari personaggi, si parla di prospettiva ribaltata.